Siamo allora all'epilogo, già segnalate nel centrovitato, stanno per essere inquadrate dalle telecamere fisse delle vittenti radio televisive posizionate sul rettifilo conclusivo, pronte ad entrare allora sul rettifilo d'arrivo a giocarsi il successo, le atlete che compongono il gruppo di testa. Abbiamo vinto il precedente passaggio, gruppo ancora a ranghi compatte con la lieve margine di vantaggio ad opera della tante vitalo a Oltreato con Elisa Lotto Borghili e Andrea Graus, l'esperta Graus e la giovanissima Lotto Borghili, lievemente passaggiate con la MC Pollini, gamba di Jordan a guidare l'insegnamento con il concorso, tutto pronto, tutto pronto qui ed è volata, è partito lo street, è partita la volata lunghissima ed è... la vacca aire la vacca aire la vacca aire la vacca aire Grazie.